Il festival sul filo del circo giunto alla dodicesima edizione ed organizzato dalla scuola di Circo Vertigo diretta da Paolo Stratta In questi giorni grande successo per i Sonics unici rappresentanti italiani del cosiddetto teatro aereo hanno presentato Flow 70 minuti di acrobazie e adrenalina numeri tratti dallo spettacolo Meraviglia che ha già avuto più di 30.000 spettatori ed una cui scena era nel programma della cerimonia inaugurale degli ultimi europei di calcio ma con citazioni anche dal prossimo allestimento Doom conosciuto in tutto il mondo il gruppo è originario di Rivoli e da ora avrà la sua residenza artistica proprio a Grugliasco al riparo di un tendone da circo loro che sono abituati ad esibirsi spesso all'aperto nelle piazze ultimamente a Miami, Bombay Francoforte, Dubai, Kiev grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti